Quanta cattiveria in questa società, in confronti di chi tiene un'altra sessuità. Quanta gente che non giulia, quanta gente che attacca, solo perché non piace la patacca. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi, noi normali. Sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani, proprio come noi, persone sani. Gli uomini sessuali non c'avranno gli assorbenti, ma però c'hanno le ali. Per volare via, con la fantasia, da questa loro brutta malattia. E se ritucco così, ehiiii, e se ritucco così, ehiiii, e se rit... Ah no no no, tu sei già così. Ehi, ehi.